San Patrignano La vita che vede nell'esperienza formativa e di crescita della persona, nella scoperta delle sue vocazioni e dei suoi talenti e nel ritrovare la propria dignità, la sua missione. Questa responsabilità comune, quotidiana, quest'attitudine naturale verso l'eccellenza, plasma una vastissima serie di prodotti che esprimono nella loro singolarità la profondità dell'esperienza di vita a San Patrignano. Questi prodotti, nell'incontro positivo con il mercato, riescono a contribuire in larga parte all'autosostentamento del nostro impegno. Hanno una storia di quasi 30 anni questi laboratori, perché nascono nel 1980. Nascono per l'esigenza della comunità di creare dei centri di formazione professionali importanti, che potessero dare ai giovani modo di esprimersi, di imparare un lavoro e di creare dei prodotti di alta qualità. Oggi abbiamo per la fortuna di collaborare con tantissimi anche design contemporanei di fama internazionale. Quindi un insieme di sinergie che fanno di San Patrignano un polo molto importante che dà la possibilità di creare un prodotto ad hoc per ogni tipo di richiesta. La bontà dei prodotti, dei comparti vino e agroalimentare è il frutto di un lavoro di una grande passione, collegato intimamente al profondo rispetto che San Patrignano ha per la natura e per l'equilibrio ed il benessere della persona. L'attenzione assoluta per la qualità e la genuinità del prodotto San Patrignano è legata intimamente alla filosofia della filiera corta e alla produzione di gran parte delle materie prime necessarie. I nostri vini, formaggi, oli, salumi prodotti da forno vengono riconosciuti dal mercato come una produzione di eccellenza dell'enogastronomia made in Italy. La maggior soddisfazione oggi è vedere crescere sempre più il numero dei nostri clienti. È il piacere di offrire qualità che per noi è impegno per un mondo sempre più sostenibile. Per questi motivi per noi vendere è anche comunicare, trasmettere ai nostri clienti attraverso i tessuti, i colori, gli oggetti, i sapori, un concetto di vita, un'idea del mondo. Grazie a tutti i nostri clienti.